Ragazze, mi sposo! E tu, Gocce? Nessuna novità! La mia triste vita può essere riassunta così. Sono single, non esco con nessuno e tra pochi giorni avrò 30 anni. Presentami, chi ti pare? Giuro che non mi tirerò indietro! Per farlo a breve, la mia vita amorosa è un viaggio sul Titanic. E non è che sul lavoro vada tutto a gocchie vele. Santo cielo, eccolo! Demir Geraolu è il sogno di ogni donna! È il principio azzurro che aspetto da una vita! Ah sì, è anche il mio capo. Love of my life. Dal 6 febbraio in prima assoluta su Pops Life.